Come si sceglie una stufa ad accumulo? La scelta è spesso dettata da un gusto personale, da una necessità di scaldare un determinato ambiente, ma sicuramente ci vuole la nostra consulenza che è ormai garantita da un'esperienza consolidata. Cosa succede? E' importante scegliere la posizione della stufa, la dimensione e il tipo di costruzione. Un modello come questo modulare, quindi non costruito sul posto, ma semplicemente riassemblato nella vostra abitazione e quella invece appunto costruita sul posto. Entrambe funzionano molto bene e nello stesso modo, ma chiaramente questa è una stufa più semplice e più facile da realizzare e da fruire. Grazie. 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 Grazie.